Ciao a tutti ragazzuoli, oggi andremo a vedere come fare installare l'ultima versione di Windows 11, la 22h2 in versione beta ebbene sì, è possibile effettuare un ulteriore aggiornamento di Windows 11, esattamente come dicevo prima, la versione 22h2 in versione beta quindi è possibile provarlo prima ancora che venga rilasciata la versione ufficiale di Windows nello specifico oggi andremo a vedere come fare ad aggiornare un computer che ha già Windows alla versione beta in più andremo a vedere come fare a scaricare questa versione in formato ISO per poter creare poi una pendrive che serve per installarla in altri computer e infine andremo a vedere come fare a installare questa versione nei computer che non rispettano i requisiti minimi sì, esattamente andiamo a vedere quali sono quei piccoli particolari da settare in modo da poter superare alcuni ostacoli in modo che venga installata quest'ultima versione in un computer senza requisiti minimi quindi senza perderci i chiacchiere andiamo subito a vedere come fare installare ok, allora per quanto riguarda gli aggiornamenti di Windows 11 se andiamo qui in basso possiamo vedere che c'è il programma Windows Insider se clicchiamo qui automaticamente si andrà a collegare nel sito di Windows andrà a scaricare l'ultima versione quindi dovremmo trovare la 22h2 vediamo allora, apri feedback diagnostica, vediamo un attimino allora, ridiciamo attiva poi torniamo qui indietro un attimino vediamo vediamo, vediamo, vediamo proviamo di nuovo vediamo se ci fa aderire per iniziare in questo caso basta collegare l'account cliccare continuo qui in poche parole bisogna selezionare il canale che più si preferisce in base alle proprie competenze in questo caso lui consiglia di usare la beta o il canale beta in quanto sono più stabili come sistemi operativi quindi noi clicchiamo beta, continua perfetto e ok, grazie per aver consigliato a Microsoft per migliorare Windows per tutti scrivendole a questo programma consente a me di raccogliere informazioni dal PC relative alle tue esperienze di Windows se installi la versione preliminare di un software del tuo PC potresti riscontrare bug e altri problemi non presenti in una versione rilasciata quindi a questo punto basta cliccare continuo eccolo qui riavvia questo dispositivo per completare l'operazione quindi praticamente una volta arrivato a questo punto al riavvio dovrebbe iniziare a effettuare quello che è l'aggiornamento per quanto riguarda il sistema operativo quindi qui dico riavvia in seguito vediamo cosa succede in questo momento ok, il dispositivo verifica la presenza degli aggiornamenti praticamente una volta riavviato lui se andiamo nella sezione degli aggiornamenti troveremo il file l'aggiornamento del sistema operativo ok, fino a qui ci siamo abbiamo visto che grazie all'aiuto di Windows Insider è possibile scaricare questa versione di Windows 11 e automaticamente puoi installarla nel proprio PC è tutto veramente molto automatico basta seguire quelli che sono i passaggi richiesti dal sistema operativo e poi automaticamente viene installato il nuovo sistema operativo sempre in versione beta adesso però andiamo a vedere come fare a scaricare l'immagine ISO di questo sistema operativo per poi creare una pendrive avviabile per quanto riguarda il download del sistema operativo basta andare a cliccare a cercare download Windows 11 e 22h2 vediamo un attimino però dobbiamo scaricarlo in questo caso da Windows Insider vediamo dove è il link Microsoft ok, vediamo se lo prendiamo qui vediamo le preview adesso lui si dovrebbe collegare alla pagina di Windows Insider vediamo l'italiano caricamento della pagina perfetto quindi ci dice in questo caso di accedere al servizio per poter ottenere per poter ottenere tutti i vantaggi ok, perfetto una volta aver effettuato il login tutto quello che dobbiamo fare è andare a cercare il download dell'immagine ISO ok, per farlo bisogna fare selezione edizione a questo punto andiamo a cliccare questa qui allora, dovrebbe essere questa la versione, se non ricordo male l'ultima versione dovrebbe essere questa clicchiamo conferma scegliamo la lingua del prodotto che vogliamo quindi scegliamo la lingua del sistema operativo clicchiamo conferma adesso sta facendo il controllo scarichiamo la versione 64 bit in questo caso ok, scarica ed ecco che in automatico inizia a scaricare in 12 minuti circa dovrebbe scaricare il file ISO perfetto, quindi anche l'immagine ISO è stato scaricato e fino adesso abbiamo visto come fare ad aggiornare il sistema operativo e come scaricare l'immagine ISO adesso arriva la parte un po' più delicata dobbiamo vedere come fare a installare questa versione in un computer non supportato essendo una versione beta ancora non c'è il tool che ci permette di creare automaticamente la pendrive come abbiamo visto nelle versioni precedenti però può darsi molto probabilmente quando uscirà la versione definitiva ci sarà anche il tool che ci permette di creare la pendrive con il nuovo sistema operativo e forse è possibile anche utilizzare la vecchia procedura per poter installarlo nei computer non supportati però essendo che attualmente non è possibile utilizzare la vecchia procedura per poterlo installare nei computer non supportati andiamo a vedere esattamente qual è la procedura esatta da seguire per poter superare gli ostacoli in modo che questa versione di Windows possa essere installata anche nei vecchi computer che non supportano Windows 11 andiamo subito a vedere perfetto ragazzuoli quindi per poter aggiornare un pc non supportato bisogna andare in impostazioni quindi start impostazioni poi andiamo su Windows Update in questo caso io ho qualche aggiornamento ancora da completare per quanto riguarda questa versione di Windows 11 e mentre per poter scaricare la versione aggiornata bisogna accedere al programma di Windows Insider però in questo caso vediamo se appare subito ecco come possiamo vedere c'è un problema in quanto questo pc non è supportato quindi non rispetta i requisiti minimi per poter accedere a questo programma e quindi scaricare una versione aggiornata di Windows 11 come abbiamo visto già in un video precedente già per installare questa versione ho dovuto apportare alcune modifiche al file di installazione nella pendrive quindi quindi se non avete visto il video vi lascio anche questo video in descrizione torniamo a noi quindi per poter procedere all'installazione di Windows 11 e superare i controlli bisogna fare due passaggi allora il primo è andare in questo sito vi lascio il link in descrizione anche di questo sito cliccare qui code download zip a questo punto avrà scaricato questo pacchetto quindi mostrano la cartella vediamo un attimino ok e questo lo mettiamo qui sul desktop questo possiamo vedere questo per il momento lo sottchiudiamo anche questo e dobbiamo scompattare il tutto quindi estrai tutto estrai doppio clic apriamo la cartella perfetto dobbiamo iniziare intanto ad avviare questo file questo destro esegui come amministratore si ok in questo caso andiamo a digitare il numero 1 invio adesso sta apportando le modifiche y invio adesso sta riavviando il computer per apportare le modifiche per farvi vedere praticamente questa operazione che abbiamo fatto serve semplicemente per superare il primo step per quanto riguarda l'adesione a Windows Insider infatti se vado in Windows Update praticamente Windows Insider non dovrebbe più dare l'errore dei mancanze dei requisiti infatti ecco qui praticamente adesso ci dice che è possibile effettuare il è possibile aderire al programma di Windows Insider quindi scaricare la versione più aggiornata una volta di aver effettuato l'ultimo aggiornamento andiamo a controllare nuovamente gli aggiornamenti quindi così vediamo se adesso è in grado di rilevare il nuovo sistema operativo clicchiamo verifica disponibilità aggiornamenti adesso lui fa il controllo in teoria dovrebbe apparire l'ultimo l'ultimo sistema operativo disponibile vediamo un attimino ok perfetto quindi come possiamo notare ci sono tre aggiornamenti il primo è Windows 11 Insider quindi questa nuova versione la 25-145 poi c'è un altro aggiornamento quindi adesso molto probabilmente lui dovrebbe dare un errore perché non supererà il test attendiamo eventualmente l'errore e poi andiamo a vedere come comportarci ecco in questo momento sta iniziando ad effettuare il controllo del computer quindi adesso potrebbe trovare l'errore infatti ce lo sta dicendo ok infatti ha trovato l'errore questo pc non soddisfattualmente requisito del sistema di Windows 11 quindi il TPM 2.0 non c'è e deve supportare l'avvio protetto perfetto quindi per bypassare questo problema qui dobbiamo fare in questo modo chiudiamo questa parte ok lui qua continuerà probabilmente si fermerà download in sospeso ok Windows è impossibile installare gli aggiornamenti perfetto ok quindi andiamo in questo dobbiamo trovare adesso la cartella di sistema quindi questo pc nel disco locale andiamo ad aprire il disco locale dobbiamo visualizzare le cartelle una cartella nascosta vediamo un attimino elementi nascosti perfetto clicchiamo nella prima ok a questo punto dobbiamo modificare questo file qui che contiene tutti quelli che sono i dati relativi al TPM quindi facciamo una copia e lo sostituiamo dopo averlo modificato quindi lo copiamo incolla lo dobbiamo modificare con un programma tipo un programma di testo quindi facciamo una cosa nuovo documento di testo apriamo il nuovo documento di testo file apri e diciamo che vogliamo aprire questo file qui per farlo dobbiamo indicare tutti i file quindi quello qui apri a questo punto diciamo modifica trova e dobbiamo trovare il TPM ok TPM e diciamo trova successivo automaticamente dobbiamo eliminare tutte quelle voci che presentano tutte quelle stringhe di codici che presentano il TPM quindi basta evidenziarla ed eliminarla così perfetto trova successivo e elimina trova successivo dobbiamo eliminare ogni singola voce in modo che lui quando fa il controllo non deve cercare quel file quella stringa di codice trova elimina questo trova successivo praticamente ce ne sono un pochettino di stringhe di codice che è parla del TPM trova successivo ok trova successivo andiamo qui eliminiamo tutte e tre trova successivo in questo caso TPM TPM tutta questa parte anche questa vedo che c'è scritto TPM quindi tutta questa parte la eliminiamo ok trova successivo anche questa trova successivo anche questa anche questa anche questa ok praticamente questa la possiamo eliminare tutta poi 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 vediamo trova successivo ok trova successivo finiremo prima o poi trova successivo ok quando appare questo messaggio vuol dire che non c'è più la voce TPM noi per sicurezza lo facciamo di nuovo ok non c'è a questo punto diciamo salva l'ha salvato adesso possiamo chiudere questo sicuramente è un file vuoto quindi lo possiamo eliminare ci è servito soltanto per poter aprire quel file quindi questo lo possiamo cancellare mentre questo qui lo andiamo a sostituire inserendolo qui e diciamo sostituisce il file della destinazione continua praticamente adesso chiudendo tutto se andiamo a vedere di nuovo diciamo corregi i problemi dovrebbe ripartire il download superare quell'ostacolo vediamo che succede eccolo qui quasi pronto ci sono ancora alcune operazioni da eseguire quindi praticamente quella parte l'ha già superata infatti vediamo qui che il 9% lui si era bloccato all'8% quindi quella parte è stata superata e qui ci dice qui ci sta dicendo ci sono ancora alcune operazioni da eseguire prima di procedere con l'aggiornamento però è avvisato al termine ok questa finestra si era tra due minuti perfetto quindi non c'è neanche bisogno che clicchiamo chiudi attendiamo che faccia tutto in automatico perfetto ha chiuso quella finestra adesso il download sta continuando siamo arrivati al 10% quindi adesso sicuramente completerà l'aggiornamento e non ci rimane nient'altro che attendere che lo scarica e poi alla fine lo installa e non ci rimane perfetto ragazzuoli come possiamo vedere l'installazione è avvenuta con successo infatti qui in basso possiamo notare che ci indica che è una copia di valutazione la build è questa qui e adesso possiamo vedere che l'aggiornamento è stato effettuato quindi se andiamo adesso nelle impostazioni vediamo un pochettino cosa ci dice per quanto riguarda gli aggiornamenti ok vediamo un attimino il sistema informazione di sistema questo è il pc una mdiatron 2x4 quindi un vecchio processore 8 giga di ram ok questa è la versione 22 eccola qua 22 h2 l'ultima versione che sta per uscire di windows quindi vediamo un attimino se è cambiato qualcosa se adesso ci fa inserire perfetto guardate con l'aggiornamento è possibile creare direttamente il collegamento nella barra degli strumenti cosa che prima non faceva non faceva fare inoltre inoltre si possono creare le cartelle qui quindi praticamente se prendo tiktok lo trascino su instagram dovrebbe creare una cartella infatti eccola qua crea la sua cartella poi volendo si può riportare fuori perfetto inoltre visto che è possibile aumentare il volume direttamente con la rotellina del mouse vediamo se è vero si funziona perfettamente anche questa funzione quindi non rimane nient'altro che testarlo e capire un pochettino quelle che sono tutte le nuove funzioni adesso ho fatto vedere giusto due tre funzioni perfetto ragazzoli siamo arrivati alla fine di questo video abbiamo visto oggi come fare installare windows 11 nella versione 22 h2 però beta nei computer sia che lo supportano che nei computer che non supportano windows 11 io spero che questo video vi possa tornare utile come sempre e vi invito a mettere un like iscrivervi al canale e attivare la campanellina fatemi sapere giù nei commenti se l'avete installato e cosa ne pensate di questa versione eventualmente fatemi sapere anche quali sono le novità che avete scoperto all'interno di questo sistema operativo e nulla noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e ciao